Il soggetto è La gloria nel nome del Gesù, l'autore è Baciccio, il quale amico di Bernini e origini genovesi. Rappresenta quest'opera ispirandosi proprio a tutti i criteri di Bernini, andando anche oltre, perché se abbiamo da una parte l'uso del marmo a tutto tondo, dei bronzi, degli stucchi, di effetti scenografici, oltre al particolare tema ovvero la cacciata degli angeli libelli e il trionfo della religione cattolica sul culto protestante, questo in realtà non avvenne perché questo disaccordo venne interrotto dalla pace di Vesfalia, nel 1684, quindi si tratta di un falso storico, abbiamo un'evoluzione nella cornice-ligna che viene superata dalla rappresentazione delle opere.